Un saluto a tutti, sono Stefano Bargiacchi, Prof. Ste, oggi è sabato, 23 febbraio 2012, sono come vedete quasi le 9, ed eccoci benvenuti e vi do il benvenuto alla nostra videoanalisi settimanale. Settimana veramente molto molto movimentata, anche se di fatto si conclude con pochissimo accaduto sul fronte della famosa congestione che stiamo tenendo d'occhio da tempo, perché di base, con grossi swing all'interno della stessa, vediamo molto bene qui, ci siamo mossi prima in sole 5 sedute, dalla base della congestione verso il confine superiore, testato millimetricamente, da qui con forti ribassi verso il confine inferiore che è stato addirittura rotto, il confine precedente è ridefinito al ribasso dall'euro stocks, infatti adesso il limite inferiore della congestione è da riporre sui minimi del 21, di giovedì 21, quindi a 2.574, laddove prima erano a 2.587 qui. Perché che cosa è successo? Che sembrava appunto che giovedì 21 la stessa congestione fosse rotta al ribasso, ma poi il giorno dopo, cioè venerdì, c'è stato un fortissimo rialzo, all'inizio un pochino titubante, ma fin dalla mattina un piccolo gap rialzista, ancora aperto peraltro sullo stocks e sul DAX, ha inaugurato la giornata, portando poi con un po' di titubanza nel pomeriggio ad un vero e proprio rialzo con una chiusura sui massimi. Chiusura sui massimi che tra l'altro ha visto nel corso della giornata l'euro stocks chiudere il gap del giorno precedente, ripeto il giovedì era stata una giornata aperta in gap ribassista, gap ribassista però interno e pienamente interno alla congestione, che si è così rapidamente chiuso la giornata successiva e per pochissimi tic, in particolare per 5 punti, visto che il gap si chiude sul DAX a 7705, ieri il DAX ha chiuso sui massimi a 7700, rompendo di pochissimo proprio sul finire i massimi del giorno prima, che erano a 7698, vedete, quindi per soli due punti ha chiuso al di sopra dei massimi del giorno precedente, questo perché, lo ricordiamo per chi ha seguito in intraday, il DAX aveva per tutto il giorno un pochino sottoperformato la positività dell'euro stocks e il gap del giorno precedente, cioè il gap di giovedì 21, per pochi tic, in particolare da 7700 a 7705, è ancora aperto. Così come il gap di venerdì 22, quello rialzista, è ancora aperto perché si chiuderebbe a 7605, mentre il minimo ancora per pochissimi punti è stato fatto dal DAX a 7607,5. Lo stesso gap, quello della mattina di venerdì, è ancora aperto anche sull'euro stocks. Questo non facilita il lavoro perché in buona sostanza quello che è accaduto è, prendendo come sempre lo stocks come riferimento, un movimento repentino avanti e indietro ma sempre ben saldamente interno ai confini della congestione che abbiamo già ben segnalato fin dal suo sorgere come una probabile congestione ABC, cioè una congestione un pochino più lunga che più il tempo passa, lo sappiamo, rende equiprobabile l'uscita da ambo i lati. Tra l'altro nella giornata di giovedì sembrava, sì è vero, con la forte negatività che l'euro stocks avesse rotto al ribasso, ma la chiusura avvenuta 2586, quindi per un solo tick, per un solo punto al di sotto del minimo precedente della congestione 2587, è stata immediatamente rigettata il giorno dopo perché, ve lo faccio vedere sul market profile, vedete quell'azione di accettazione del forte ribasso del giorno precedente, cioè la costruzione di un profilo simmetrico davanti al livello di chiusura non è assolutamente avvenuta fin dalle prime battute della mattinata. Quindi sicuramente una fallita rottura al ribasso della congestione che tra l'altro il DAX non aveva nemmeno rotto, quindi c'era comunque una piccola divergenza perché se è vero che giovedì, venerdì, scusate, nella giornata di venerdì 22 il DAX ha per tutto il giorno sottoperformato, è anche vero che nella giornata precedente, cioè di giovedì, in qualche modo aveva sovraperformato perché non aveva rotto appunto la congestione al ribasso, o meglio tentato di rompere come ha fatto l'euro stocks per poi rientrare prontamente. Vi ricordo ancora che invece la negatività del FIB è stata sicuramente più marcata, ma come abbiamo detto tante volte il FIB sembrerebbe aver rotto la congestione e anche ieri il recupero non gli ha permesso di rientrare nella stessa, ma ripeto, fino a dopo i risultati elettorali il FIB fa un pochino storia a sé stante. Quindi, e di nuovo, nelle prossime sedute teniamo sempre presente l'euro stocks come giusto mezzo tra le varie forze in campo, siamo pienamente interni a questa congestione ABC che si sta sviluppando in modo puntualissimo rispetto anche a quanto avevamo detto e intuito precedentemente, dal fallimento del six out in poi. Stessa cosa sul DAX, i confini della congestione molto ben chiari, molto ben marcati e finché siamo all'interno della stessa, di nuovo siamo come in una macro area swing dove veramente nulla si può dire e c'è una forte non direzionalità, l'abbiamo visto benissimo nella settimana che si è appena conclusa all'interno di questa ormai ampia congestione. E quindi non possiamo concludere nulla finché non avremo un'uscita confermata della stessa, ripeto, confermata, così come quella di giovedì non è stata assolutamente confermata dall'euro stocks perché il giorno dopo è mancata l'accettazione e il DAX non ha assolutamente confermato. Due parole anche sul Bund perché, ecco, cos'è successo al Bund? È successo che nella giornata in particolare di ieri ha per tutto il giorno avuto un comportamento fortemente diverso da quello degli azionari perché lo vediamo la giornata si è conclusa con un saldo sostanzialmente positivo esattamente sui massimi del giorno precedente, questo è singolare che erano a 143,60 dopo aver trascorso una buona parte della giornata al di sopra degli stessi laddove appunto DAX e STOX hanno praticamente messo a segno per tutto il giorno una giornata di segno, lo vediamo, assolutamente positivo. Quindi è mancata quella correlazione negativa e questo è un altro elemento importante, una sorta di divergenza che per quanto il Bund venga tenuto in secondo piano perché la correlazione inversa non sempre è presente, è comunque un elemento molto molto importante il fatto che proprio nella giornata del recupero di venerdì il Bund degli azionari, il Bund sia salito invece di scendere come avrebbe dovuto fare per confermare. Quindi il materiale è veramente tanto, ripeto attenzione nelle prossime sedute perché i movimenti, lo abbiamo visto, erratici all'interno della congestione sono molto molto forti e di nuovo finché non usciremo dalla stessa e i confini sono ben marcati in maniera confermata. Nulla si può trarre né prevedere sulla direzione di uscita, come sempre accade.